Porta comunque il coso lui Va bene, aspettato il giusto Lui un po' di danni ne pia una fracca, giustamente Ok, mettiamoci lui in cover Good Good E' ancora good Ah qua ci ha rotto, è entrato in combo No, attenzione Attenzione Andiamo Vediamo Io 8k rp mi fermo, Riccardo tecnicamente con 8k stai rilassatissimo Stai rilassatissimo Chiamami creep, cercherò di ricordarvelo Bella tora Non l'ho tirato giù Ripissimo Ripissimo Porca miseria Cazzata? Incoming? No, ok Due perfect vanishing così mi faccio schifo da solo, raga Giuro Ah, che rischio Che rischio Inutile tra l'altro perché non c'era bisogno di tutto sto rischio Rising Rush Ciao Goku Non fa niente Bella Nike Bella Nike Eh vabbè, vi è andata malissima sto tizio C'ha ragione Lo capisco Ma è vero, non si fa più sul Rising Rush la combo Quindi può essere No, niente Solo perfect vanishing ho preso sta partita No, regà Non si può giocare al perfect vanishing È una cosa che veramente Non riesco proprio a sopportare Questo va indietro 100% No, l'abbiamo preso Ah, 9-4-5 È bassissimo Vediamo chi entra Lag Bene Vediamo chi entra Vediamo Gone Si può fare Oh, metti Goku No, regà lagga Regà lagga Regà lagga Regà lagga Sto premendo da mezz'ora Nannaccia la miseria Lagga, maledetto Ma dai, ma vaffan... Mi sono pure beccato Goku Messo qui così a caso Vabbè, lui si mette kit qua adesso Comunque qualche danno più se lo via Rising Rush no Madonna Sti perfect vanishing devastanti Facciamo... Dovremmo togli gli 650k di Ultimate Anche se è un giallo Non penso C'ho paura di no Ma che palle Bravo Beh, due volte Non ce la puoi fare l' Ultimate da là Non ce la puoi fare l' Ultimate da qua Penso stia laggando anche a lui Che Rising Rush su Goku Vabbè Bella Davide Questo è pure italiano Top connessione Sì, stiamo messi bene Stiamo messi, eh King of... King... King... Fnone Chiamarei King of None Ma non è il nome giusto Nooo Eh, mo sa se ha preso lui il perfect vanishing Questo Tiè Se scambiamo special move Oh, 9,90 Ottimo 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 Ottimissimo Raga Ottimissimo Goku Ottimissimo Ottimissimo Sgrudolissimo Raga Lo facciamo così Perfetto Non ha più il vanishing Sgrudolissimo Ottimo Oh, oh, oh Non sgrudolissimo per niente Ah, sì Adesso sì Buona GG Ci saranno stati problemi di lag Io all'inizio Lui a metà Ma io avevo fatto il fake strike Io avevo fatto il fake strike Eh, vabbè La partita così è chiusa Ovviamente La partita così è chiusa Un verde totalmente inutile al momento Non mi serve proprio a nulla Peccato Eh, boh, sì Ciao Vabbè Niente La lettura sbagliata di un team Porta a questo Bisogna Bisogna portarsi sempre in app C'è poco da fa Preferisco portarmi sempre lui a sto punto Qualsiasi cosa succeda Amen Abbiamo preso Siamo entrati Incredibile Quella carta rossa Può rimanere appesa tranquillamente lì Ebbè Tanto mi mette dentro Goku giallo Figuratemi che scemo Però se ti feinto Eh, affanculo Dai, fai che abbia tutte strike Ti prego Ah, per ora sta avendo tutte strike Che culo No Vabbè Ci siamo presi l'altime Su quello che la può reggere Più di tutti Bello Loris Ciao caro Ok Siamo entrati su Goal Oh, c'è proprio, regà Che ve devo dire Era ottimo pure per tenerlo per dopo Ma Al momento Ci provo Almeno Provo a eliminargliene uno Eh, affanculo Almeno ci ho provato Buono Buono Siamo entrati 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 Doppia special move Abbiamo pure quella per Goku Per Goku terzo Attenzione Lui si tiene Goku terzo Perché Cioè Goku Chitku Effettivamente Goku Chitku E Goku Goku Bella Bella partitaccia Questa Special move Sua No Ok Oh Menomale Concentrazione Ok Dovremmo averlo preso Perfetto Ciao Gadget Non mi ha preso Il key cancel Ok Ah No Non era questo Che volevo fare Giuro Sì ma tanto Nappa Guardate È blu Ok Questa è andata Ci teniamo l'ultimate Che ci può servire Realmente come il pane Va bene Vai Jin Chiedimi scusa Subito Sì che conveniva Fare 3 switch A voglia Se conveniva Era un'unica Se potevo fare Vado a infartare Su qualche gioco horror Ad dopo Ok Ci siamo ripresi Gli RP di prima Quasi ripresi Gli RP di prima E siamo di nuovo 6780 6800 Che dite Ci fermiamo qua O proviamo a continuare O continuiamo a provare Proviamo a continuare O continuiamo a provare Tra l'altro C'è posto per un'altra gif Cioè per un'altra emote Ciao babbo Benvenuto Ciao derbo Dobbiamo decidere Come fare l'altra gif Io volevo prendere Una foto mia O qualcosa di mio In particolare Perché non ti dà le emote Non lo so Per quale motivo Non te le dia Prova a scrivere A parte che i titoli Sono un po' così Tlog 2 Emote Tlog 2 Emote Tutto attaccato Così Tlog 2 emote Oppure Tlog 2 Clamoroso Ottlog 2 Pull Ovviamente devi attaccare Devi fare tipo 7800 Deve stare più sicuro Va bene E noi ci proviamo Vangione Ci proviamo Ah ok Nazz Va bene Ok Ok Sarà fatto allora Sarà fatto Grazie ancora Viper Grazie ancora Tu ti sei Ti stai Stai rankando Quante crono hai Ti riavvia la palla Ok Quella coi diamanti La useremo Quando si pullerà Soprattutto Io ho un muro Di emote Il fusion Se ci prende in combo Ci fa parecchio male Basta salire un po' di più Aspettiamo un attimo Che mai ci fanno schiarì Aspettiamo un attimo Che mai ci fanno schiarì Andiamo di nappa Porca la miseria Due Epa Vabbè Ok Ho capito come sarà l'andazzo Di questa partita oggi Sarà così per tutto il tempo Ne vinco uno Ne perdo uno Ne vinco uno Ne perdo uno Peccato Speriamo non sia davvero così Speriamo di entrare un po' in combo Allora proviamo a fare questa cosa qua No Ma nappa Grazie lag Grazie Grazie gioco Ok C'ha tolto una nappa Ma Chi entra? Veget giallo? No Lui ha perso l'altimate Ha perso Kefla Gli rimane però Veget giallo Che è quello più Pericoloso L'avevo pure fintato Invece il giallo è pericolosissimo Ok Ma Ah recupera il vanishing È vero Rising rush Ci proviamo Effetto quando non serve Che bello Esatto Effetto quando non serve Bella Riccardo Dai Buona Che culo Siamo riusciti In bocca Dai Dammi le tutte e tre Se strike Ok 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 perfetto Ok perfetto Anche in combo Anche in combo In modo Deve switch up Per forza Devo fare Devo evitare di fare Questa stronzata enorme Che ogni volta Mi perdo la carta La strike Quando faccio questo switch Devo cercare di fare Un po' di key charge E riprendermi quella strike Così In modo da averne due Buono Quei tap Strike 100% Vai Jimmy 948 Non è male 969 Infatti Ci ha distrutto E mo siamo speculari Rosso su giallo Vai Per forza Questo posso Fa Nappa picchia Go super saian 3 Ottimo Se le regge Nappa Un pochino Le botte Facciamo una fregatura Vediamo se lo fruttiamo Ok Non ci vedo niente C'è il fuoco Lui è uno che fa Tappettini Buono 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 Questa ci piace Questa ci gusta Questa ci gusta Parecchio Ci gusta Ah Vabbè Mette nappa No Ma tanto pure Che non lo mette Ci abbiamo il rising Ci abbiamo l'ultimate Proviamo a tirarlo via Col sto rising Nappa Gialla Bella Bella Basi Ho 20k Sul principale 20k Sul secondario Ciao Nappa Vado a mangiare Bella Balletto Buon appetito Ultimate Is possible Ultimate Is possible Verde Is possible Verde Is possible Ma lui mi farà Tap No Gialla Ti pare Mid Gialla Che questi Non hanno La barriera Non gli ho tolto Neanche il vanishing Se l'avessi tolto Dobbiamo stare Molto attenti Vediamo un po' Se mi fa l'ultimate Ok Lasciamo su kitku Che tanto Il danno non è alto Se mi fa faint Comunque non mi tira giù Subito Anche se fa rising rush Quindi siamo abbastanza coperti Subito special move Così gli togliamo il vanishing Rising rush Conterato Strike Strike Ottima Buona Da 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 da